La nostra attenzione è rivolta a fare più punti possibili, ma non perché sia per noi, perché credo che la squadra debba avere questa voglia, questo desiderio. Perché intanto fare punti vuol dire fare delle prestazioni importanti, non lasciare niente di intentato. Questo è un campionato che è difficile già se sei al 100%, se scendi di un gradino diventa impossibile. Quindi il nostro atteggiamento dal punto di vista sia mentale, fisico, che di voglia di ottenere il massimo nella gara e in queste cinque gare deve essere assoluto. Questo Napoli rilassato, Napoli che possa farci dei regali, non lo vedo assolutamente. È una squadra che ha dei valori assoluti straordinari, perché comunque ha fatto, secondo me, anche quest'anno un campionato importante. È chiaro che davanti c'è una corazzata che ha spazzato via tutti. Sulla pericolosità di Napoli non ho nessun dubbio, dipenderà sempre e comunque molto da quello che andremo a fare noi sul campo. Noi dovremo creare delle preoccupazioni a loro, dovremo avere una compattezza di squadra importante.